Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, siamo qua in compagnia di Auro e oggi porteremo questa qua è una mini serie, porteremo tutti i contratti di Payday 2, non tutti i contratti di Payday 2 ma la storyline, la storyline di Payday 2, partiremo da dove è rimasta Auro, dato che io come potete ben vedere l'ho bella che è finita, insistiamo già, non dico a buon punto, ma siamo abbastanza agli inizi dovremmo completare oggi, banca go e basta, perché le diamond ice abbiamo fatto prima quindi ragazzi che dire, godetevi quest'ice, partiamo, vuoi dire qualcosa, vogliamo ripartire prima? Ciao Ottimo lavoro, partiamo Oh eccoci ragazzi, finalmente ha caricato Sono tutti il garante, quello che ho sentito in basso a destra Io che non carico Cosa in basso a destra? No, io che non carico Bene, partiamo, banca go Oddio banca go Allora, io direi di partire da qua Partiamo da qua, ok Ti rimango fusi, guardate come sono bella Fai vedere quanto sono bella Bravissimo Oh, io sono senza malatticare Io sono ancora senza maschera, questo è bello Bene ragazzi, un secondo tentativo Partiamo Questo video lo editerò io Si è notato Quanto è di dire tutti i temi e vivo Non c'ho voglia io Veramente Non c'ho più voglia io Ragazzi vedrete dei video epici Vabbè Non mi prendo la maschera Per passare Questo l'avete già visto ragazzi Meglio non farvelo rivedere Cosa Ma sai che non ti senti, vero? Come non mi sento? Cioè io non ti sento No, no, mi si sente anche pulito Partiamo Vediamo di farlo durante questo video troppo Troppo Già siamo arrivati a 5 minuti Non ti senti a fare un cazzo 5 minuti Se io facessi questo Ui, ui Mi divertito a fare Secondo me Io ho un problema su Payday Payday è l'unico gioco che non posso mettere schermo intero a finestra Perché? Non c'è l'opzione Se io mettessi Payday 2 e schermo intero in finestra Non lagherei Perché ogni gioco che ho ormai Lo gioco a schermo intero a finestra GTA non laggo 5M non laggo Payday 2 è l'unico gioco che laggo Perché c'è lo schermo intero Poi hanno anche misato col culo di su Quindi Capisci? 2 più 2 è uguale Pesce Ma povero Dovrò stare Entogli a due guardie Vabbè finché non chiediamo No, direttore Fattelo Che sta per uscire? No, invece no Ma queste canzoni Ne sentivo a Natale Infatti siamo Ai tempi di Natale Quanti Quasi quasi siamo oggi primo ottobre in cui stiamo registrando il video uscirà il 2 ottobre o anche prima o anche il giorno stesso dipende se ho voglia cioè non so voglia se il tempo me lo permette buona fortuna per me per le mani anche se non viene sognato anche se non spiegato un ma sai che ti dico io direi vuoi fartelo adesso? easy easy no scherzo non è questa va bene alla easy peasy devi distruggere tutte le cam una faccio a distruggere pedri eh due ah quella già è fatta basta andiamo quelli prima lontani io mi faccio la guardia che bello sentire Houston follow me come on bellissimo guarda che bello come è morto come sta dormendo volevi dire come sta dormendo sta dormendo eh infatti adesso lo mettiamo in una buzza ce lo portiamo nella spesa mettiamo pure vicino una baguette perché tanto non gli dispiace il cadavere però cadavere eh voglio dire persona che dorme persona che dorme ho fatto tu tu ammazzo perché c'è loro faccio addormentare sono dardi stordenti questi in realtà mi hai fatto prendere un infarto eccola ma doveva direttrice ecco perché volevo ucciderli tutti ma non stavo regarli l'hai messo? sì adesso dobbiamo aspettare il time lock ah e nel frattempo cos'è che si fa? niente esatto vediamo quando si apre dai che mi sa che è la gensac è già arrivata la gensac cioè ecco appunto ci manda due guardie ora bene ci dice state attenti perché avete compagnia ok allora niente skip allora andiamo l'interno dovevo sponare laggiù e cosa dobbiamo fare? ammazzarli cioè addormentarli ok addormentarli l'interno c'è la gensac come dico arrivano da lì e si fanno vestiti di rosso anzi noi arrivano da lì o da lì adesso non ricordo da lì arriva la gensac non mi ricordavo se era gensac o proprio poliziotti e poliziotti ok sono già scesi abbiamo ammazzato tu quello lì io ammazzo e ammazzo l'altro sponni a cercare il sole ma poi la logica di pda yay è che quando è ammazzo cioè addormentalo ok lo faccio io non ho fatto ho messo un gemmer per sbaglio invece di mettere seghi perché sono un gemmero cos'è successo? ho sentito ben parlare no ok lui parla al telefono non rispondiamo al telefono ma lui parla quello lì sai che non si può prendere quindi bisogna che sta qualcuno lì fisso eh? c'è un cadavere là fuori c'è un tizio che dorme fuori cos'è? questo è di cui parlavo ah vabbè lui rimaniamo al telefono rimaniamo al telefono ma come è di questo? ce la farò mai? no non ci sono arrivata qua io sinistra tu adesso no no aspettiamo che chiamino un po' io sempre io sinistra quello che è eh allora sinistra è il tuo culo che è già alla porta aspetta che entrano entrambi no e il telefono adesso? no stai scherzando vero se uno scatta d'allarme vuol dire è finito il telefono infatti non mi fa più rispondere no lo sento infatti non mi fa più rispondere lol eh c'è un tizio cioè sono due tizi due civili qua dentro però non si sono accorti che io sono qua meglio no? esatto che c'è una tizia? sì una tizia qua ma perché? mo? ma? ui non lo pensai a chi prendila ok tu vai? io la prendo c'è qualcuno un attimo ti prego un borsone o uno? solo uno te ne chiedo e poi ce ne andiamo aspetta ok ce ne andiamo ci andiamo? sì corri corri lo sai sto suonando ah no non è qua ah no sì ok ringrazio per aver fatto questo video poi ovviamente uscirà tutti gli altri episodi di questa serie da Auro e Spartan e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.